Ci siamo occupati della realizzazione dei bassorilievi che rappresentano gli stemmi delle province abruzzesi. Io e la mia compagna di corso in particolare ci siamo occupati di quella di Teramo. È stato molto bello partecipare a questo progetto, sia dal punto di vista didattico, in quanto ci siamo messi alla prova sul materiale, attraverso le tecniche classiche.